Nella settimana di San Valentino e del Festival di Sanremo ci sono degli ottimi motivi per andare almeno una sera a teatro. Al piccolo Bellini è stato prorogato fino al 24 febbraio il magnifico lavoro di August Strindberg, Creditori, col suo scavo psicologico acutissimo e con una scrittura inquieta e potente, Strindberg fu uno dei primi drammaturghi ad intaccare la forma classica del teatro borghese. La regia di Orlando V mette a fuoco le dinamiche di persuasione e di soggezione nascoste sotto la superficie dei rapporti umani. Al teatro San Carluccio nella zona di Via dei Mille, sabato e domenica un incontro raffinato con la musica e la storia. Un tè alla napoletana, appuntamento in casa Hamilton, è uno spettacolo concerto dove il musicista inglese Charles Barney e la patriota Eleonora Pimentel Fonseca incrociano le opinioni e i sentimenti sulla città di Napoli, con l'ambientazione di musica ed epoca e di animazioni video. A Sala Icos, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, le officine teatrali E-Links mettono in scena Ashes of Hell, un fottuto requiem per Mahagoni. L'opera di Brecht, cui questo lavoro si ispira, sviluppa una critica radicale al capitalismo, causa essenziale del declino morale della società. In questo testo, proiettato nel presente, le figure brechtiane diventano ancor più grottesche e mostruose, rappresentando la malinconica deriva di una comunità il cui unico metro di misura delle cose è il denaro.